Buonasera, buonasera, sono Bippo Franco, ammazza che breccola che sono, mi sono fatto un viaggietto a Milano, dico, voglio andare a Milano a vedere le grandi produzioni che si stanno facendo in questo momento, giallo, ho detto fammi fare un saltino, avete un po' Fantastico 4, vado a Fantastico 4, entro negli stupide Corso Sempione, dico, scusi, che mi fa il pass per entrare dentro a Fantastico? Dice, no, non c'è bisogno del pass, gli è d'Orsantino, tanto è lo stesso, oh, sono entrato dentro, ho detto, oh, ma che, arriva lo Gersè a Gennaio, dice, no, è Teresa che sta a cantare, allora, c'ho la breccola che non si tiene, c'ho la breccola che non si tiene, allora sapete che ho fatto? Ho detto, adesso vado a Canale 5, no, perché dicono che Canale 5 è la televisione giovane, dicono che Canale 5 è la televisione rivoluzionaria, è tutto cambiato, arrivo nella portineria di Canale 5 e sento una mano dietro le spalle che mi fa, quella tipo franco, allora, ma che, non è cambiato niente?